un piccolo intermezzo signori sono sempre emozionato io quando dico queste cose no sono tecniche di meditazione scaccio le cose negative un secondo finito niente signori volevo assicurare a mia madre che sto bene mi chiede se sto bene ma volevo dire che sto benissimo benissimo sta mamma cazzo che mi ha rottuto letteralmente i coglioni mi chiamo alle 7 di mattina mi chiede se ho messo la maglietta di lana la maglietta della salute cazzo sta cazzo di salute ma io so molto bene sono collegato con le forze della natura che mi rilassano sto entrando in uno stato di rilassamento mi sono sorti dei trauma da piccolo quando andavo a scuola mi metteva le calzamaglia vent'anni di psicanalisi anche perché superman aveva anche lui la calzamaglia e ce l'aveva sto pacco pacco e sono finito in psicanalisi per questo motivo qua quando ho finito la psicanalisi dopo vent'anni lo psicanalista mi ha detto ora te lo posso dire e sai che superman aveva il cotone? e sai perché superman aveva il cotone? sai che superman aveva il cotone? Signori, ho buttato vent'anni della mia vita, ma ora mi sento un uomo diverso. Rinato, mica come cavaldonato, mi fermerei qua, mi fermerei qua, ciao Mario, no no, tutto bene, no no, sei mio cugino, ciao ciao. Basta ballare, basta ballare, parlo con la mia tribù ragazzi, attenzione che vi catturo, a uno a uno vi prendo dentro, attenzione, questa cosa è un po' contagiosa. Sera Giovanna, alle giorno, buongiorno. Se la gara è una di schiena... Grazie a tutti.